musica oh mi sono ostinato un dito è colpa della lampadina ok siamo a 3 finché sbitti le lampadine a manicura mentre la lampadina stessa è accesa non l'ho fatto apposta allora ragazzi siamo arrivati a... trombeopoli 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 trombopoli e' niente adesso diremo andiamo allenare un po' con il nostro orgasmo di figlia vengono allenare ma c'hai già parlato con il ciccio nella scorsa puntata ma io li volevo bene dai vattene via chi lo deve scendere di scendere va un po' nell'erba alta e metti mette orgasmo aspetta metti orgasmo da nè per primo sono obbligato? orgasmo allora ma passerina c'è passerina si ma passerina con tritipi roccia fa schifo ordine metterò ok è livello 10 quindi manca poco anche all'evoluzione oro si a livello 16 voglio farlo salire di livello subito a livello 16? o sarà una lunga lunga scalata voglio che diventa cosa che diventa guarda altrimenti detto gigolo professionista oh no gigolo semiprofessionista ma io lo voglio lo voglio il basso muscoluto allora quello è il blasto è livello 36 si è una bella scalata anche quella perche' 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 una cosa del programma allora ci basta salire anche solo di un livello e poi possiamo andare e passerina e gli altri ah proprio si perchè tanto non ti servono gli altri alla puntina ma io voglio bene passerina si passerina lo mettiamo come prima ma poi prima che ci muoia magari lo lo cambiamo e bavoso lo voglio bavoso no bavoso ci sta ancora nooo si mi ha sbavato tutto il corpo ah devi ricordati che devi stare attento a a a non farli morire si 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 infigi i maschi ammazzalo oh si è compiacione ritirata lo ammazzeremo ritirata no come ritirata ti aumenta la difesa come no come cos'è attila re degli unni attila non ritira mai poi gli arriva la roba in testa ritirata ahahahah ma fa che queste foglie sono ritiriamoci dimmi che è una femmina si è una femmina ammazzala ammazzala devi andare contro il tuo codice civile e devi stare attento a che non ti muoia orgasmo non morirà è un gigolo professionista no non è ancora è un gigolo principianto adesso far cambi fa il misto cambialo cambialo fidati cambialo ok ci metto il passerino mandaci il passerino ahah la femmina ha fatto una femmina si ma la tua femmina è molto più esperta è già è già è già fatto infatti quella prende solo 20 guardo forno guardo fermo guarda guardo forno guardo fermo vuoi che una una zuccoletta come passerina sia abbia lo sguardo che si muove mi sta bruciando il dito a forza di pensare ma smettila questo dito vai a curare orgasmo cura tutto anti fai una cosa andiamo subito trombeopoli andiamo subito contro brock nooo perchè non ho voglia di morire ma non credo che muoiano a questo punto poi tanto c'è un allenatore prima di brock possiamo allenarci con lui poi tornare di nuovo al centro pokemon e poi andare di nuovo da brock ormai ho finito di curarli si ok era quello che dovevi fare voglio fare il culo a mister però ah? voglio fare il culo agli allenatori e allora vai dall'allenatore in palestra ok qui se non mi spaglio c'è un piccolo no 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 non farti no 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 non farlo no perchè cosa fai? cosa fai? cosa fai? cosa fai? cosa fai? nooo vaffanculo nooo non dovevi ok non dovevi sento qua ti porto fino alla palestra si è quello che dovevi fare è una rotola di palle 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 è qua no ma la fai culo ti guidavo io vuole impulsare il mio nome eh grazie è quello che sto facendo da da 5 puntate basta no oh è sparito oh è una bambina eh vaffanculo è un piccolo pare che i clefferi venga dalla luna davvero che ce la vi attraversa e trova un'opportuna paura per una tutela di palle no la facciamo a fare eh ok quindi ok ok rock ma in realtà devi fare come più forte di una roccia ammattiamola ma tromba e quindi è stato tu? no oh si si tromba tu dei samurai non so che che perchè samurai ma sembra di sembra ah no si hai tutte le carte in regola per fare grandi non sono un allenatore non so come evitarti e vincere ti porterai massimi livelli no spera che non si paga eh ma ho detto di no io ho detto lo stesso ok vai contro quel tizio con il cappello verde nooo perchè gli hai parlato di nuovo dobbiamo vedere se dice qualcosa no ti dice sempre le solite cose ma io avevo detto di no vai vai contro il tizio verde brock ciao è cieco è vero non mi viene neanche tu andato là dove vai ci vorranno anni luce prima che tu possa competere con brock mi dico oh ragazzi mi si sta confiando il dito ma smettila questo dito ma cos'è? è Lupen ma che cazzo dici Lupen ma sembra Lupen che voglia fare stai dicendo tanti di quelle strontate scuso sono stressato geodood la prima roccia con le braccia io... e... bolla di vedere bolla comprei loro ragazzo geografico ah no ragazzo della terra tizio della terra ma geodood E' super efficace Mi raccomando non usare mai azione o mosse di tipo terra Cioè terra normale Azione No Bolla Fai qualcosa di pinto Tanto sti geodos sono scupidi Continuano ad usare riccio scudo Per aumentarsi la difesa Orgasmo decide Vai sali di livello bastardo E' per quello che ti ho fatto venire qua Voglio passerina E' bello che non hai neanche perso troppi punti vita per ora Non ho perso neanche più Dance you Un armadillo Bolla Mi ricorda un cricete Un armadillo Si sa Turbo sabbia Decisione di orgasmo scala Dai non fare i miss Oh no Ha fallito il buco Ma è un maschio E' comunque inesperto Ma è un maschio Chi? Eh non ha centrato il buco E' stato pagato per questo Ok Ah ok E' super efficace Anche le bolle Secondo te da dove vuoi che provengano Si è molto brutto Da gli occhi Ma Riempilo di bolle Questo send Cazzo Cazzone Usa solo scudi Tutte ste cose Come tutti Si usa scudo E process Si Molti Molti fanno così Ti voglio livello 81 Ma poi magari ci arriviamo Se non ci muore prima Ma non morirà Ah chi lo sa Si muore Orgasm Il protagonista Eh chi lo sa Che magari contro Brock O il prossimo capopalestra Lo stavo pensando Già qualche giorno fa No Misty Guarda che è una È una merda Ciao Vai Parlaci Nigga Ma è cieco Si è cieco Non ti vede Vedi Rimane fermo A posto per questo Non ti vede Sono Brock Che bastardo L'hai toccato Si è girato Solo Brock Ok Il mio moto Di generazione È difesa granitica Granitica Ok Ecco perché Tutti mi hai fatto Un deficiente Si Vuoi ancora sfidarmi No Ma non hai fatto neanche l'opzione Esatto Non hai scelta Non l'affanculo Vuoi sfidarmi Ok Ma ormai è così snello Ed è anche più giovane Si è anche la faccia più squadrata Hai ragione E nemmeno di colore Geodude a livello 12 Ma che cazzo se ne frega di Geodude Bolla 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 Riempilo di bolle Diventerò la sua bolla Che braccia possenti sto Geodude Chissà Mi sa che l'ha allenato anni Aia Secondo me farà un sacco di abbracci Che gioco Eh li hai scritto la parola Pago Geodude per abbracciare le persone Oh io lo voglio un Geodude Comunque no E magari tanto poi più avanti si trovano Eh non vuole vedere se mi trovi Livello 13 Mi sa che il nostro orgasmo sarà imbattibile adesso Orgasmo si vuole un livello 120 Pistola acqua Allora a posto di pistolacqua dobbiamo mettere colpo coda Al posto di colpo coda dobbiamo mettere colpo coda Sì Devi tagliare colpo coda Di Agita la coda per ridere la difesa del nemico Non mi sembra un cazzo Nooo Uno due Puff Ehm Argasmo caca Scorda colpo coda Ma cos'hai fegge di Men in Black Sì sì Ti fa gli attacchi di amnesia Un po' cazzo Sì Ok Onyx Onyx Livello 14 Oh mamma Ora devi usare o bollo o pistola acqua Ok proviamo a pistola acqua Chissà da dove esce quel pistola acqua Poi è un legato Guarda Ma è una bomba Mmm Porca puttana Super efficace Morte al primo colpo E' usato Non è che l'abbiamo uscita Sì E sale pure a livello 14 Vai Orgasmo E' victorias Vai Orgasmo Sì Quindi abbiamo vinto la medaglia Che abbiamo sottovalutato Ti conferisca la medaglia a sasso In faccia Eh che cazzo serve Riceve la medaglia a sasso Ma non è neanche una decorazione E' un sasso di merda In testa Sì prende le rocce della palestra Lì per terra La lettere da È una medaglia ufficiale Tieni La forza della forza La forza dei suoi Pokémon Sì Sì Aumenta di un po' le statistiche Chiaramente una di te po' come in squadra Deve conoscere questa mossa Flash Infatti La otterrai più avanti Millequattrocento Oh sì Millequattrocento simboli Per un bel servizio Oh cazzo Grande Orgasmo Orgasmo viene pagato così tanto Aspetta porta Amit con te Ehi Gio Un'arma? L'MT39 E' il fucile della precisione Più forte No vabbè Eh rocciotomba mi sembra Rocciotomba Puoi farle imparare Non mi ricordo chi puoi farle imparare Dei nostri O rocciotomba Cosa c'è? Lancia i massi all'avversario per ridurre la velocità No guarda che toghi anche Rocco ma tu sei seri Prova a vedere È cieco Prova a vedere Nello zaino Adesso a finirlo Adesso Cioè 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 Guarda un attimo a chi lo puoi imparare Nessuno dei nostri Chi lo Che ne sai Perché io sono grasso Prova a guardare Usa Nessuno è capace Ok Visto te l'ho detto Ok Non sono rocciesti qua Sono bom Manoidi Allora andiamocene Andiamocene È cieco È cieco Allora andiamocene Sembra di essere un allenatore E' piuttosto in gamba Ma se sei cieco Un allenatore Non un allenatore Buon No no Cosa Non voglio finire Eh ormai è tempo Ok però voglio stare con lui Ok A dopo ragazzi